Quarta domenica di avvento, ascoltiamo il capitolo primo di Matteo nel Vangelo di questa liturgia, il quale ci mette di fronte al sogno di Giuseppe e alla sua adesione al piano di Dio. Al di là di una miriade di dettagli nascosti in questo testo che richiederebbero molta più riflessione dello spazio che in questo momento possiamo prendere, è importante trovare una chiave per leggere all'interno di questa liturgia della quarta domenica di avvento, che è il testo proprio di chi accoglie il Signore che viene. Come possiamo leggerlo? Così fu generato Gesù Cristo, così inizia il testo, ecco così Gesù Cristo viene generato, lui parte sempre così. C'è una donna che è promessa sposa di un uomo e si trova incinta per opera dello Spirito Santo, cioè Dio prende l'iniziativa, così viene il Signore nella nostra vita. Prende l'iniziativa e c'è una donna che è gravida di un'opera di Dio e c'è un uomo, Giuseppe, che si deve confrontare con questo e cerca le sue soluzioni che sono di varia gradiazione di nobiltà e cerca come di vincolarsi da questa difficoltà. Ecco così appunto cerca di risolvere il problema, ma avviene qualcos'altro che un'altra iniziativa di Dio è quella di parlare al suo cuore. Il sogno che compare qui è l'immagine della vita interiore profonda di questo uomo che si deve confrontare appunto con l'opera di Dio e non deve temere, questo uomo non deve temere di accogliere, di prendere con sé questa sposa e il bambino che è in lei. Così è l'opera di Dio. Dio prende l'iniziativa e nel profondo del cuore ci dice la verità e ci invita a entrare nella storia che ci pone davanti, a entrare nelle cose che ci dona, a accoglierle secondo Lui. Noi possiamo sempre leggere su due livelli tutto quel che accade. Questo fatto si potrebbe leggere semplicemente secondo un livello piattamente biologico e allora c'è poco da fare, le soluzioni che stava proponendo Giuseppe avevano la loro plausibilità, oppure c'è qualcos'altro. È così che stiamo davanti alla nostra vita. O la nostra vita si spiega semplicemente come una candidazione di causa e effetto, oppure c'è qualcos'altro. Questo dice il sogno, questo dice la fede nel profondo del nostro cuore. C'è qualcos'altro, oltre allo sbattere fra di loro delle varie concause della vita, c'è un piano di Dio, c'è un'opera di Dio nella nostra esistenza. Quante volte corriamo il rischio di vedere solamente piattamente la superficie delle cose, di non volgere lo sguardo verso l'invisibile, verso il recondito, verso il nascosto, verso il seme che Dio ha messo nella realtà, che è la sua opera, e cambia radicalmente. A quel punto si diventa padri, a quel punto Giuseppe diventa un uomo che ha da portare avanti l'opera più grande della storia. Le opere grandi sono quando noi scopriamo il segreto delle cose e accogliamo di svolgere la nostra funzione, di svolgere la nostra vita all'interno della grandezza delle cose, servendo la bellezza delle cose, servendo il recondito, il mistero delle cose. Tante volte la vita è gravida di un'opera di Dio e noi dobbiamo saperla accogliere, accogliendo la differenza rispetto alla nostra pianificazione di quel che Dio vuole fare con noi. Ecco, con semplicità noi apriamoci a questo Natale che arriva, essendo questa l'ultima domenica prima di Natale, accogliendo tutta la realtà. Gesù Cristo viene sempre in maniera imprevista, nascerà in un posto che non è quello opportuno per il Messia. Avrà una forma che sempre, fino alla morte, sarà sempre quella che non è compresa dagli uomini. Noi possiamo essere questi uomini che rifiutano l'opera di Dio nascosta nelle cose oppure la accolgono, ma dobbiamo credere a quel sogno, a quel sogno che ci dice che noi abbiamo un ruolo importante. In un certo senso Dio ha avuto bisogno di Giuseppe come Dio ha bisogno di tutti noi. Se noi accogliamo la sua opera, la sua opera diventa quel che è veramente, perché è in noi, è per mezzo di noi. Siamo proprio noi quelli che devono dare il nome alle cose, così come Giuseppe deve dare il nome di Gesù a Gesù stesso, e cioè dirgli chi è questa cosa grandiosa che è il ruolo paterno, quello di riconoscere l'importanza, la nobiltà, l'identità del figlio, del suo ruolo oggi così poco praticato, di dire alla generazione che sta crescendo, ai giovani di oggi, che sono una salvezza, che sono un Gesù, che sono un'opera di Dio, che non sono nati per caso e che c'è chi li accoglie, chi gli vuole bene, chi ci tiene a loro, chi li difenderà, chi li nutrirà, chi li crescerà. Accogliere, nutrire, custodire l'opera di Dio. Questo è quello a cui siamo chiamati sempre, se vogliamo accettare che Dio ci salvi, non come pensiamo noi, ma come pensa lui, secondo i suoi sublimi progetti d'amore.